Che cosa è successo? No, io ho visto, se ho fatto il bacone, ho visto che si parla nel telefono, è bella e buona, ho visto un rumore che è bella e buona che se ne è caduto il palazzo, niente di più. Hai avuto paura? Eh sì, un poco. Cosa sai di questo palazzo? Sì, solo che è fracido. Aveva già dato segni di cedimento, che stava per cadere? No, no, soltanto una pietra e subito è caduto un palazzo. Che cosa è successo? No, ho visto che se ho fatto il bacone, ho visto che si parla nel telefono, ho visto che c'è il rumore che è bella e buona il palazzo. Ha avuto paura? Eh sì, un poco. Cosa sai di questo palazzo? Sì, perché è fracido. Aveva già dato segni di cedimento, che stava per cadere? No, no, soltanto una pietra e poi è bella e buona il palazzo.